Vediamo adesso come è possibile creare un corso all'interno della piattaforma Moodle Naturalmente bisogna essere in possesso dei privilegi per la creazione del corso Se questo non è possibile, naturalmente bisogna rivolgersi all'amministratore e chiedere che crei per voi un corso Se avete la possibilità di creare corsi, nella scrivania della vostra piattaforma avrete a livello di impostazioni, quindi nel riquadro che riguarda le impostazioni relative al sito avrete la voce corsi Aprendo la voce corsi, comparirà dal menu la voce aggiungi modifica corsi Cliccando su questa voce, vedrete che si aprirà una nuova finestra all'interno della quale il pulsante di aggiungi corsi e quindi creare un nuovo corso La creazione di un nuovo corso presuppone che vengano compilati alcuni campi come potete vedere i campi necessari per poter aprire il corso sono quelli che riguardano il titolo del corso in nostro caso abbiamo inserito il titolo il titolo abbreviato che è un'appreviazione del corso che comparirà in testa nell'elenco della pagina è possibile inserire un id del corso però nel nostro caso non ci serve ancora un'altra voce da compilare è l'introduzione del corso dove è possibile inserire una breve descrizione del corso Naturalmente se non interessa alcune voci possono essere omesse Altro campo che è possibile compilare è quello che riguarda il formato del corso quindi come apparirà il corso e la suddivisione dello stesso in blocchi esistono alcune opzioni si può vedere che esistono alcuni formati che è possibile selezionare per il nostro corso naturalmente il numero e il tipo di formati che possono essere selezionati dipende dalla quantità di moduli che sono stati installati quindi non è standard ma a secondo del sito e della piattaforma può essere personalizzato nel nostro caso è possibile vedere che ci sono cinque formati che possono essere selezionati sicuramente quelli più utilizzati sono la suddivisione del corso per argomenti o settimanale altre impostazioni che possono interessare o meno a secondo dei casi sono quelle che riguardano la data di inizio del corso nel senso che è possibile stabilire di aprire il corso a una certa data ed è quindi possibile fissare questa data in modo che in automatico il sistema apre il corso agli studenti, agli utenti nel momento in cui viene raggiunta la data si può decidere il numero di news che devono essere mostrate all'interno del corso si può decidere se mostrare o meno le valutazioni agli studenti per le attività che vengono svolte del corso è possibile decidere se visualizzare o meno i report delle attività agli studenti e altro parametro importante che può essere impostato riguarda la dimensione massima dei file che possono essere caricati dagli utenti all'interno del corso quindi file che possono essere allegati per esempio a dei messaggi nel forum o inviati al docente per esempio attraverso il modulo compito per quanto riguarda la dimensione massima dei file che possono essere caricati si suggerisce di non utilizzare dimensioni molto alte perché potrebbero determinare un appesantimento del server e quindi è opportuno dosare questa quantità altri parametri che possono essere configurati riguardano per esempio il numero di argomenti o di settimane che sono presenti all'interno del corso quindi significa il numero di blocchi, di sezioni che si desidera far comparire all'interno del corso naturalmente questi parametri possono essere modificati in qualsiasi momento quindi una caratteristica molto importante di Moodle è proprio quella di permettere una modifica di quelle che sono state le scelte all'inizio della creazione del corso e quindi una flessibilità molto ampia altri parametri che possono essere impostati sono quelle di far comparire o meno l'intestazione di quelli che sono in blocchi ancora nascosti all'interno del corso oppure la visualizzazione delle sezioni del corso all'interno della stessa pagina ancora altra configurazione che può essere fatta per il corso riguarda l'accesso degli ospiti al corso stesso perché può essere negato nel senso che per poter accedere al corso è necessaria la registrazione e questo può aiutare l'insegnante in modo da far accedere al corso solo agli utenti registrati e quindi evitare che ospiti possano visualizzare i materiali o quantomeno verificare cosa si sta facendo all'interno del corso è possibile anche settare una chiave di accesso al corso per cui questa chiave è una password che deve essere fornita agli utenti i quali possono accedere al corso questa chiave viene richiesta solo al primo ingresso mentre non sarà più richiesta per gli accessi successivi per quanto riguarda la modalità configurazione gruppi è qualcosa che può essere di aiuto quando si ha a disposizione corsi frequentati da un numero molto alto di utenti e quindi può essere opportuno suddividere gli utenti in gruppi in modo da poter poi suddividere anche tra più tutor i gruppi stessi per il monitoraggio e il controllo altre configurazioni che possono essere apportate riguardano la forzatura della lingua nel senso che l'utente può essere obbligato a scegliere la lingua che viene impostata di default dal sistema e il tracciamento del completamento delle attività terminata la fase di configurazione del corso è necessario cliccare sull'apposito pulsante per rendere effettive le modifiche che sono state inserite e apportate al corso il pulsante lo si trova in basso quindi in fondo a tutti i campi che permettono di configurare il corso quindi il pulsante su cui è scritto salva modifiche cliccando su questo pulsante le modifiche che sono state apportate nella fase di configurazione del corso vengono registrate dal sistema e quindi il corso a questo punto è stato creato dalla piattaforma ecco come pare il corso che è stato appena configurato si può vedere che esistono due menu laterali con dei campi e quindi delle voci di elenco per esempio navigazioni, impostazioni a sinistra invece notizie recenti, attività recenti, prossimi eventi quindi che sono dei blocchi che è possibile configurare ulteriormente nella parte centrale troviamo la parte più importante del corso che è quella che rappresenta le sezioni del corso in cui poi saranno inserite le varie attività che saranno svolte e caricate nel corso come si può vedere risulta divisa in alcuni rettangoli questi rettangoli sono i blocchi, le sezioni del corso e corrispondono a quelle che avevamo impostato nella fase di creazione del corso infatti abbiamo settato che gli argomenti presenti perché abbiamo scelto come formato del corso quello per argomenti il numero di argomenti presenti nel corso abbiamo selezionato e deciso che questi fossero 5 e infatti è possibile vedere che questi vengono elencati ed etichettati di default come argomento 1, 2, 3, 4 e 5 naturalmente queste etichette, questi nomi possono essere cambiati e possono essere inseriti dei nomi significativi e decisi poi naturalmente individuati dall'insegnante un altro blocco, il primo blocco in cima al corso è un blocco che viene creato di default ed è il blocco in cui è presente anche qui come impostazione di base del sistema un forum, il forum delle news naturalmente è possibile aggiungere anche altri forum oltre a quello che viene impostato di default al sistema un altro elemento molto importante del corso lo si ritrova in alto a destra ed è un pulsante questo pulsante presenta la scritta termina modifica o attiva modifica a secondo della modalità in cui si è presenti all'interno del corso quindi termina modifica sta a significare che la modalità attiva è quella che permette di modificare le sezioni e gli elementi del corso se invece il pulsante presenta la scritta attiva modifica vuol dire che si è nella situazione, nella condizione di lettura degli elementi del corso ma non di modifica per cui se si vuole modificare le sezioni del corso inserire elementi del corso è necessario far sì che il docente all'interno del corso sia nella condizione di modificare gli elementi per cui bisogna attivare la modifica se invece sono state terminate le modifiche che si volevano effettuare allora a questo punto è necessario chiudere questa modalità quindi cliccando sul pulsante dove compare la scritta termina modifica adesso naturalmente sono presenti anche come si può vedere numerose icone il significato di queste icone lo vedremo man mano comunque sicuramente per avere una informazione dettagliata del significato di queste icone si rimanda a quella che è la sezione specifica in cui vengono riportate delle spiegazioni riguardo alle icone e quindi alla funzione allora vediamo adesso come possiamo iniziare a personalizzare il nostro corso il primo tipo di personalizzazione che occorre mettere in atto è quella di cambiare sicuramente il nome alla sezione cercando di dare un nome che sia un nome significativo dell'attività che si vuole svolgere all'interno della sezione o che la sezione deve contenere per poter apportare delle modifiche alla sezione bisogna cliccare sull'icona che ha la forma di un ingranaggio quindi di una stellina come viene mostrato nel video in questo modo quest'icona permette di attivare la funzione modifica relativa all'elemento che viene selezionato e quindi a cui questa icona si riferisce allora nel nostro caso se clicchiamo l'icona quindi di modifica che è presente al di sotto del titolo del nostro argomento si attiva la possibilità di modificare l'argomento stesso la sezione stessa come si può vedere una volta entrati nella finestra si vede che è spuntata una casella relativa all'utilizzo del nome di default della sezione significa che la piattaforma nel momento in cui viene creato un corso dà un nome di default all'argomento alla sezione che abbiamo visto che è appunto argomento con numeri progressivi naturalmente è opportuno personalizzare il nome dell'argomento e allora per farlo è necessario togliere la spunta alla casella e una volta che viene tolto il segno di spunta si può vedere che è possibile inserire un nome a livello del campo relativo al nome della sezione quindi si può digitare il nome desiderato in modo che questo campo che viene compilato permetterà di avere nella sezione del corso il nome inserito il valore inserito altro elemento che può essere inserito riguarda la introduzione la descrizione che si vuole far comparire una volta che sono state terminate le fasi di inserimento quindi relative al nome della sezione e all'introduzione che si vuole inserire per rendere terminali le modifiche bisogna cliccare sul pulsante salva modifiche fatto questo si ritorna nel corso e si può vedere che abbiamo apportato una modifica al primo blocco quello che era chiamato argomento 1 come si può vedere non compare più il nome dell'argomento 1 come era presente nel momento successivo alla creazione del corso ma vedete che è presente il nome inserito il testo inserito il nome della sezione e sotto si può vedere quello che era stato scritto nel campo relativo alla descrizione naturalmente è stata inserita solo una parola con dei puntini ma è possibile inserire anche un testo abbastanza lungo naturalmente sconsigliato perché potrebbe rendere più pesante la lettura dell'intero blocco dell'intera sezione quindi è opportuno comunque se si intende inserire una descrizione o un'introduzione che questa sia particolarmente sintetica invece per i dettagli si può fare riferimento a quelli che saranno poi gli elementi di contenuto le attività e le risorse inserite all'interno di ciascuna sezione naturalmente è possibile continuare con la personalizzazione dei blocchi fino a personalizzare tutti i blocchi che compaiono nel corso secondo quella che è la programmazione dell'attività quindi che il corso vuole portare avanti la piattaforma permette di fare un'operazione che a volte è molto importante e cioè modificare la posizione delle varie sezioni dei vari blocchi quindi è molto importante poter spostare questi blocchi per farlo procede in un modo molto semplice che è quello di utilizzare l'icona per lo spostamento dei blocchi questa icona è possibile individuarla all'estrema sinistra in alto di ciascun blocco ed è l'icona a forma di corsore a croce per poter spostare i blocchi è necessario posizionare il corsore del mouse sulla croce e quindi a questo punto tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse spostare il blocco fino alla posizione desiderata a questo punto è necessario quando è stata raggiunta la posizione desiderata rilasciare il pulsante sinistro del mouse il blocco sarà spostato in quella posizione